la lancia tema è nata nel 1984 come ammiraglia lancia e nel 1986 è stata presentata questo modello qua che è la tema ferrari la tema ferrari è stata pensata per contrastare il predominio di soprattutto delle auto ammiraglie tedesche mercedes e bmw e anche volvo anche all'epoca c'era anche la volvo molto in voga la tema ferrari rappresentata marzo aprile del 1986 è entrata in produzione inizi nel 1987 montava un motore di derivazione ferrari mundial o 308 leggermente modificato per diciamo renderla più affidabile e limitare le vibrazioni e la potenza era stata ridotta a 215 cavalli perché la tema ferrari avendo la trazione anteriore non riusciva a scaricare tutta la potenza quando è nata ha fatto molto scalpore questa macchina perché era una macchina che diciamo montava un motore ferrari una macchina già di un grande successo nel 1986 e era una macchina che avevano speranze di venderne molte non è stato così perché la vettura aveva delle bellissime finiture e con sedili in poltrona fra o in pelle o alcantara prestazioni notevoli per l'epoca però diciamo hanno fatto un po una forzatura perché questo motore messo su una macchina nata per quattro cilindri aveva bisogno di una manutenzione molto onerosa e in più non si poteva usare come una tema 2000 a quattro cilindri o anche turbo perché era un motore che richiedeva un po di attenzione perché questi motori sono diciamo motori si nobili di alte prestazioni ma motori che comunque vanno un attimino trattati in un certo maniera perché non si può mettere in moto partire subito e sgazzare a freddo perché sono motori che richiedono una certa manutenzione e in più come dicevo prima vanno anche saputi ad oprare la macchina questa è una primissima serie una delle prime costruite è del 1987 e ne hanno prodotti in tutte e due le serie prima seconda serie perché è stata prodotta fino a 1992 ne hanno prodotti circa 3600 3500 3600 della prima serie ne hanno prodotto e 2500 della seconda serie solo 1100 perché questa è una vettura che costava tanti soldi andava su un segmento che poi c'erano auto di un certo livello mercedes bmw jaguar e dopo la gente le persone che acquistavano queste macchine erano molto esigenti questa era macchina e chiaramente aveva prestazioni notevoli per l'epoca e delle finiture veramente 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 belle con sedile elettrici e interni in pelle fra ualcantara cruscotto in radica e rispetto alla tema normale erano tante le cose che cambiavano anche le guarnizioni queste erano brunite mentre sulla tema sono normali cromate o nere nelle ultime versioni aveva l'alettone mobile che veniva comandato con una levetta dove è il tergicristallo girandola e usciva fuori non è come la leggenda che diceva che usciva fuori a secondo la velocità questo andava comandato da dal pilota quando veniva messa in moto la macchina questa la vettura io ne ho avute più di una l'ho acquistata due tre anni fa usata chiaramente è una vettura che grossissimi problemi non me la dati perché era stata fatta insomma abbastanza manutenzione però ripeto queste macchine qua per la manutenzione è molto onerosa perché per fare le cinghie di distribuzione altri vari interventi è quasi sempre tocca togliere il motore e metterlo in un banco le prestazioni erano notevoli perché questa faceva 240 km orari anche se bisognava stare molto attenti perché avendo la trazione anteriore che riusciva molto male a scaricare tutta la potenza e dietro essendo vuota anche se avevano messo l'alettone la macchina velocità elevate poteva diventare pericolosa queste macchine purtroppo nel corso degli anni avendo un bollo e una manutenzione elevata sono state buttate via e sono state demolite tantissime dice che esistenti forse non si arriva nemmeno a mille si parla di 7 820 in tutto il mondo di preciso non si sa perché ce ne sono tante che sono in condizioni di relitto abbandonate qua e là dentro garage o di collezionisti o di concessionari che non avviano restauri perché un restauro di questa macchina comporta delle cifre notevoli in più questa è la macchina ripeto non è una macchina che si può usare così come una panda è una macchina che richiede un po di attenzione in primis di fargli una manutenzione ordinaria e regolare e in più anche per quando va usata non si può trattare come uno tratta un'utilitaria così mettere in moto e andare perché sono macchine che se non vengono diciamo trattate bene si rompono facilmente molte di queste macchine quando diciamo sono passati un po di anni che si sono svalutate tantissimo la manutenzione non veniva più fatta perché era onerosa e dunque si trovano esemplari di queste autovetture praticamente in condizioni disastrose senza la manutenzione con motori diciamo trattati male con pistoni mezzi grippati e dunque rimettendoci le mani sopra io lo dico che se uno trova un relitto di queste macchine metterci le mani sopra si supera largamente il valore della vettura quando è stata restaurata perché purtroppo i pezzi molti componenti sono Ferrari i pezzi costano ma anche comprando la marmitta stessa si spendono diversi soldi per non parlare poi del motore se uno comincia a fare rettifiche o cose varie e poi i componenti componenti le minigonne i cerchi l'ala bagagliaio la mascherina tutti gli interni sono tutti completamente diversi dedicati per questa vettura qui dunque a comprarle anche una mascherina cioè a chiedere tre o quattrocento euro non ci vuole niente l'ala bagagliaio e cioè può costare il ricambio a trovarlo mille euro e dunque se sommiamo tutte queste cose un restauro fa costare una cifra altissima per il resto questa è una macchina che diciamo è da amatori da amatori oggi come ieri perché queste vetture ne è state vendute 3600 circa 3500 dunque non tantissime in tutto il mondo e dunque ancora oggi non è una vettura che proprio tutti la possano comprare è proprio una vettura che da da pochi appassionati e come dicevo in precedenza questo è il vano motore dove è alloggiato il v8 ferrari di derivazione mundial o 308 come vediamo è proprio stato sembra messo proprio infilato con forza e manutenzione anche per le quattro candele per per cambiare le quattro candele qua e che ne ha quattro qua e quattro qua ci vuole una chiave apposta e svitare e non con poca difficoltà e questo il motore messo qui è da anche una sensazione quasi che non respiri infatti io questa macchina quando la dopo a volte d'estate mi fa un po paura perché quando apro il cofano scalda tantissimo rispetto a altre vetture anche 3000 che ho di cilindrata perché il motore cioè praticamente c'è stato messa forza non è non era progettato per questa vettura qua e mi fa un po paura perché ripeto scalda tantissimo dopo è bello da vedere un vuoto il rumore è bellissimo però ripeto è più una macchina da farci secondo me dei giretti e facci qualche raduno e usarla un po' diciamo con discrezione perché se si rompe un motore così sono dolori io comunque da toscano ho voluto dire un po' di pregi un po' di fetti perché è una bellissima vettura ma anche all'epoca come oggi un po' controversa ciao 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 ciao